Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Per quell'ammirabile glorificazione, che voi aveste anche dopo la morte, o sempre gloriosa Santa Marta, allorché rinchiuso in arca preziosa al Vergine al vostro corpo, fu collocato in magnifica cappella intitolata al vostro nome. E quindi. Manifestando la vostra virtù, con le guarigioni le più meravigliose. Vedeste i monarchi più potenti. Umiliarsi dinanzi alle vostre ceneri. Dota riccamente il vostro altare. E magnificarla a vostra memoria. Col rinchiudere il vostro corpo in busto d'oro. Ottenete a noi tutti la grazia. Di vivere sempre così conformi ai vostri santissimi esempi. Da meritare dopo morte la benedizione degli uomini sopra la terra. E il possedimento eterno di Dio. In unione con voi lassù del cielo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santa Marta. Pregate per noi.